Bella a tutti ragazzi, sono io Jessie J e sono in giro a fare cagate. Qui c'è la mia amica, saluta! Ciao! Sono chiaramente sinceri comunque. C'è la gente che ci guarda male, partiamo bene. Allora, oggi siamo a fare una passeggiata. Ci sono i piccioni, il cielo è blu e per terra è grigio. È grigio. Comunque dobbiamo accortare perché la gente non ci guardi male. Beh, dettagli. A me piace quando mi guardano male. Ciao, poliziotto. Vuoi un farficiotto? Mi vuoi morire te. Ok, beccatevi un po' il pavimento. Cagate i miei piedi, anche i suoi piedi. Sono belli i piedi. Piccioni. Allora, questo è un vlog un po' alla cassa, ma sono dettagli. Dettagli. Sono sempre dettagli, comunque. Sì. Scusate, sai che ci sta che faccio il vlog anch'io? Perfetto. Allora, la mia amica, seguitela. Me, seguitemi ancora di più. I piccioni, seguiteli anche loro.